Aumentano i ricoveri negli ospedali Covid dell'area Toscana Nord-Ovest e all'ospedale Versilia riapre la terapia intensiva con un ricoverato. I numeri del report settimanale dell'azienda AS Toscana Nord-Ovest parlano di un calo generale dei contagi passati dai 1360 della settimana che andava dal 24 al 30 agosto ai 913 degli ultimi sette giorni, di cui 247 nella nostra provincia, 142 nella Piana, 13 in Valle del Secchio e 92 in Versilia. La scorsa settimana il totale dei nuovi positivi in provincia di Lucca era di 401. A fronte del sensibile calo di nuovi contagiati sono però aumentati i posti letto occupati nelle terapie Covid. All'ospedale San Luca di Lucca i ricoverati sono 28, di cui 5 in terapia intensiva, mentre a Versilia sono 11, di cui 1 in terapia intensiva, reparto che fino alla scorsa settimana era rimasto un stand-by, ma che si è reso necessario riattivare. In merito alle vaccinazioni, nell'area della Piana la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è dell'80%, percentuale che sale all'81,6% in Valle del Secchio e all'81,8% nella zona Versilia.